Caccia aperta in tutto il nord Italia, i banditi che hanno ucciso una cinquantenne mentre le rubavano l'auto a Vicenza, la donna aspettava la nipote che stava prelevando soldi al banco, ma forse è stata pedinata, ricostruiti i denti kit. Dall'Alaska alla Corea in tutto il mondo e molte città italiane la protesta dei giovani contro il cambiamento del clima lanciata da Greta, la sedicenne svedese candidata al Nobel per la pace. Conte, nessuna reazione emotiva può giustificare la gravità di un femminicidio, così il premier dopo le sentenze che attenuano le pene. Uccidere una donna in preda ad una tempesta emotiva o perché si è stati traditi o umiliati può davvero giustificare uno sconto di pena? Alcune recenti sentenze sembrano riecheggiare il delitto d'onore, le opinioni di uomini di legge, politici e gente comune. Nuova giornata di colpi di scena e suspense a Westminster, Brexit rinviata, ma solo fino a giugno Teresa May chiederà di rivotare per la terza volta l'accordo con l'Unione Europea e se sarà di nuovo bocciato i tempi per l'uscita della Gran Bretagna dall'Europa si allungheranno, i cittadini britannici dovranno votare alle elezioni europee, non ci sarà il bis del referendum. La Gran Bretagna chiederà all'Unione Europea un'estensione fino al 30 giugno della Brexit, ma solo se entro il 20 marzo il Parlamento approverà il piano di Teresa May concordato con Bruxelles. Eccoci qui, avete visto nell'apertura dei telegiornali alcuni dei temi di cui parleremo oggi e che stasera vogliamo affrontare in una chiave di lettura particolare, quella del marketing, una disciplina nata in ambito commerciale ma che ormai esonda in quasi tutti gli altri ambiti, la politica, la comunicazione, forse addirittura anche le relazioni personali, al punto da indurci a chiederci se stiamo diventando tutti merci o tutti marchi. Per esempio, chissà se non sia già diventata magari contro la sua stessa volontà un marchio Greta, questa ragazzina di 16 anni diventata il simbolo della lotta al cambiamento climatico. Di questi temi parleremo questa sera con Francesco Giorgino che di comunicazione se ne intende, ne scrive, la insegna, direi quasi che la incarna. Benvenuto Francesco. Grazie, grazie per l'invito e buonasera. Allora, prima di affrontare appunto i nodi tra comunicazione e marketing applicati alla politica sempre più ampie sfere, le notizie che abbiamo visto in apertura, non ti chiedo quale apertura fosse la tua preferita perché sei in conflitto di interventi. Ovviamente quella del TG1, dovrei rispondere insomma. Il conflitto di interessi patente. Beh sì, è evidente, sì. Ecco, su quale tema ti soffermeresti, quale segnaleresti e perché? Intanto dal punto di vista sociale ci sono oggi delle aperture che sono molto molto importanti perché sia TG1 che TG5 che TG3 e TG7 si sono occupati di questioni che hanno un forte impatto sulla vita dei cittadini. Nel nostro caso abbiamo fatto riferimento a questa piaga difficilmente risolvibile purtroppo nonostante la grande copertura mediatica che è il femminicidio e invece in altri casi si è fatto riferimento a questa sensibilizzazione dell'opinione pubblica mondiale attraverso la storia di Greta, di questa ragazzina che nasce come testimone, quindi rappresentante di una impostazione che rileva dal punto di vista dell'investimento sul futuro ma che effettivamente essendo stata in grado di abitare gli spazi della comunicazione a più ampio livello possibile un po' incarna questa logica di affrontare temi con forte rilevanza politica anche in chiave di marketing però lì è proprio la forza della purezza, la forza dell'immediatezza di una ragazzina che è riuscita a dire delle cose che i potenti della terra non sono riusciti a dire e quindi anche una forma di destrutturazione se vogliamo anche del potere classico connesso alla comunicazione istituzionale Soffermiamoci un attimo ancora su Greta, domani ci sarà questa mobilitazione generale ecco a proposito di comunicazione, non è un meccanismo un po' diciamo così bizzarro quello che ci porta già oggi e domani ancora di più a parlare in maniera estesa di un problema del nostro tempo, forse del problema del nostro tempo salvo poi accantonarlo passata la giornata dedicata Sì, questo è un rischio che si corre sempre quando si affrontano in modo analitico le dinamiche della comunicazione di massa però è un rischio che vale la pena di correre perché l'assenza di queste fiammate di attenzione sarebbe anche peggio devo dire che, consentimi ma non per parlare del mio telegiornale, però noi sui temi climatici negli ultimi mesi abbiamo investito moltissimo perché riteniamo che davvero sia la questione delle questioni e quindi diciamo è un invito che dobbiamo fare i nostri colleghi a tenere i riflettori sempre molto accessi su questa questione che ha implicazioni a tutto tondo, mi piace riflettere con te sulla capacità di declinare in un modo molto ampio la parola sostenibilità noi siamo stati abituati nell'ultimo periodo a concepire prevalentemente la sostenibilità economica ma esiste una sostenibilità ambientale, esiste una sostenibilità sociale, esiste una sostenibilità culturale pensiamo al tema della responsabilità sociale dell'impresa cioè il fatto che si debba chiedere all'impresa di essere responsabile anche rispetto al territorio in cui opera ed è un tema di straordinaria importanza per cui teniamo accesi i riflettori su questa vicenda Senz'altro, adesso vediamo le altre notizie del giorno e poi riprendiamo la nostra conversazione gli altri titoli 16 anni e 8 mesi di carcere per l'untore di Ancona l'ex trasportatore 35enne è stato condannato per lesioni gravissime e omicidio volontario aveva consapevolmente contagiato la compagna morta di AIDS nel 2017 ma le sue vittime potrebbero essere più di 200 parcheggio in doppia fila, automobilisti a processo pugno duro della procura di Roma contro i furbetti della sosta in tribunale sono già finiti 10 indisciplinati il reato contestato è interruzione di pubblico servizio Mussolini, a parte Matteotti e fino alle leggi razziali fece anche cose buone bufera sulle parole di Tajani, l'Europarlamento frase indegna, il presidente chiede scusa Revenge Porn, la madre di Tiziana Cantone al Tg1 fermata all'agonia sul web ha portato al suicidio di mia figlia, 4 proposte in Parlamento F35, autonomia regionale famiglia, nella maggioranza è braccio di ferro su tutto sulla nuova via della seta i 5 stelle spingono per gli accordi mentre la Lega frena, le opposizioni incalzano, governo confuso riferisca in Parlamento avvicinandoci al tema che vogliamo affrontare con te quello della centralità del marketing applicato alla politica, alla comunicazione una battuta sulla Brexit in questo caso mi sembra che la Brexit sia un prodotto che è stato in un certo senso venduto ai britannici ma che non si riesce a consegnarglielo Assolutamente sì, tra l'altro è emblematico anche della difficoltà di far valere la volontà popolare perché il grande paradosso di questa vicenda è che un'indicazione molto chiara da parte degli elettori non riesce a tradursi per le dinamiche della democrazia rappresentativa in una proposta politica quindi gli inglesi si sono sostanzialmente incartati rispetto a questa soluzione tant'è vero che la notizia di oggi è sì il rinvio ma anche che non ci sarà più un referendum popolare per cui sostanzialmente può essere che la volontà popolare varrà zero se sostanzialmente si continuerà su questa strada e questo è il grande paradosso anche del nostro tempo visto che si vuole recuperare il valore della partecipazione popolare rispetto alla decisione politica e programmatica in questo caso dopo tre anni è ancora una storia molto di là dal chiudersi dal chiudersi, da risolversi sostanzialmente questi meccanismi dicevamo di marketing, comunicazione e politica tu li hai indagati, li hai illustrati a fondo in un libro che è uscito da poco per i tipi di Louis Press University eccolo qui, alto volume, politica, comunicazione e marketing se capisco bene il tuo assunto tu in sostanza ci dici che oggi i politici più che porsi come in rappresentanza degli interessi, delle istanze, dei cittadini ne forniscono una rappresentazione scenica, forse quasi teatrale sì, c'è sostanzialmente il tema di ricercare una forma di equilibrio tra le esigenze della rappresentanza, degli interessi degli elettori e la iper rappresentazione, io in questo libro in realtà ho voluto mettere a fuoco in modo molto neutro quindi senza giudizi di valore sui politici di oggi rispetto ai politici di ieri anche perché il processo è lungo è complesso e articolato ho voluto mettere a fuoco il processo di trasformazione della politica in comunicazione e marketing che cosa vuol dire processo di trasformazione della politica in comunicazione e sotto certi versi anche in marketing vuol dire che la comunicazione non è più forma e sostanza vuol dire che da un lato si tende, questo è un fatto molto positivo a rispondere continuamente agli elettori quindi la politica prima di decidere consulta gli elettori quando ha deciso rende conto agli elettori di quello che ha fatto e questo è un dato positivo però poi c'è il lato, come dire, a rischio di distorsione che è quello dell'eccesso di mediatizzazione dell'eccesso, dice Orsina nella prefazione di teatralizzazione della politica perché è a rischio? perché è una politica che decide solo ciò che è mediatizzabile tende sostanzialmente anche a confrontarsi in modo differente rispetto al passato con il tema dell'interesse generale perché non tutto ciò che è mediatizzabile è riconducibile anche all'interesse generale quindi si tende a scegliere ciò che il pubblico più che l'opinione pubblica si aspetta dalla politica e questo oggettivamente è un tema che presenta dei problemi e come spiegavi tu affronti la questione dal punto di vista tecnico ma fai anche degli esempi sulle figure politiche del nostro tempo di questo parliamo e ci facciamo introdurre meglio all'argomento dal selfie di Augusto Contelmi il nostro parlamentarista che ci offre come dire un tranche de vie di Salvini fuori da Montecitorio guardiamolo insieme che cosa hai paura dai forza è un candidato consigliere a Reggio e vuole votare a Reggio Emilia ma per chi? per la Rega che ne so è candidato per il PD ultimamente ha avuto molti scherzi siamo in piazza Montecitorio con Matteo Salvini ci vediamo a Resto mi raccomando in bocca al lupo a lui e a voi il 26 di giugno se voti il 26 giugno è tardi possono avere questa immagine ciao bocca al lupo grazie potete corre con lei? con lei? sì, là ok scusi io sono francese, buongiorno ah, francese che ti fa la foto? lui bufale, 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 occhio che fai male quindi insomma da Marco Polo a Leonardo quindi guardiamo io penso a Piontek Leonardo va bene come dirigente del Milan Marco Polo invece va bene anche lui Francesco questo spaccato ci fa vedere proprio plasticamente il tentativo di Salvini di accorciare le distanze con gli elettori con i cittadini proprio di farsi fisicamente prossimo a loro sia appunto con la prossemica che con i temi popolari il calcio, Piontek anche questo fumarsi da sigaretta è un po' un modo è un vizio comune ecco e sono proprio questi meccanismi che tu analizzi c'è un tentativo molto evidente devo dire che ha portato dei risultati straordinari per Salvini di appunto ridurre le distanze tra elettorato passivo che è praticamente rappresentato dai parlamentari e elettorato attivo che invece è rappresentato dai cittadini e questa capacità di immergersi nella realtà, nella quotidianità, direi nella dimensione della normalità è particolarmente evidente in Salvini. se noi in questo momento volessimo fare una analisi comparativa tra il modello di comunicazione di Salvini e quello dei 5 Stelle vediamo che in Salvini c'è quello che si può sintetizzare con un acronimo TRT territorio, rete nel senso di web e televisione cioè ci sono tre elementi che vengono sfruttati al massimo territorio vuol dire capacità di immergersi e identificarsi nelle peculiarità del territorio basti pensare alle felpe con il nome della città in cui va basti pensare ai bagni di folla che Salvini fa ovunque e gli si reichi per ragioni politiche o istituzionali il web vuol dire utilizzare i social network in chiave di ibridazione dei modelli di comunicazione classici cioè la verticalità dei media di un tempo viene in qualche modo mitigata dalla orizzontalità dei social network e poi televisione perché è un soggetto iper presente nei contenitori televisivi insomma e quindi sa sfruttare bene tutte le risorse a sua disposizione per accorciare le distanze con gli elettori Ecco, indaghiamo invece, raffrontiamo questo stile a quello dell'altro partner di governo tu scrivi, mi sembra citando Folli, il notista politico di Repubblica che mentre appunto Salvini ha un atteggiamento dice facciamo questo, faremo questo i 5 Stelle invece si pongono nel senso di vorremmo fare questo ma non ce lo fanno fare come se fossero ancora all'opposizione, questo forse spiega anche il calo dei consensi Sì, diciamo che lo storytelling politico, per usare una parola che va molto di moda la narrazione politica del momento 5 Stelle in alcuni momenti è apparsa più impostata, più incentrata sulla negazione quindi su ciò che non si può fare piuttosto che su ciò che si può fare per esempio, insomma, vorrei, sono molto curioso di capire le reali ragioni della polemica nei confronti della conferenza mondiale sulla famiglia e sul contrasto alla denatalità fortemente voluta dal ministro Lorenzo Fontana perché il tema, mi pongo, della famiglia è un tema che deve essere necessariamente affrontato in questa chiave così a rischio di distorsione prendiamo il meglio di questa situazione quindi a volte si ha questa sensazione che spingendo più il piede sull'acceleratore della negazione piuttosto che della fermazione ci si mette in una condizione di maggiore difficoltà però lì spesso, il motivo vero è che siamo in presenza di due modelli completamente diversi perché la Lega, anzi le Lega, perché esistono due partite una Lega del Nord e una Lega del Sud per la stessa missione di Salvini proprio questa mattina in LUIS abbiamo discusso una tesi di laurea su questo le Lega sono comunque partiti strutturati quindi che hanno una classe dirigente diciamo articolata nel territorio il Movimento 5 Stelle è un movimento sin dal nome il Movimento non vuole essere partito è un movimento che in questo momento è alle prese con il processo di trasformazione da Movimento in partito politico e quindi paga anche lo scotto di questa connotazione che sicuramente non è presente nella Lega di Salvini Ma questo ossessivo poggiarsi sulla comunicazione abbiamo visto sia pure con stili differenti ma in realtà lo fanno tutte le forze politiche di opposizione e di governo non comporta anche che più che rispondere a problemi concreti ne introducano di magari meno pressanti o addirittura inesistenti che però siano compatibili alla comunicazione al loro frame come si dice in gergo tecnico In gergo tecnico, sì, questo è un tema molto molto rilevante nella sociologia della comunicazione cioè in un approccio sociologico allo studio dei media che è un po' riassumibile con l'espressione massimizzare da un punto di vista comunicativo le politiche favorevoli a chi governa e minimizzare quelle sfavorevoli per cui parlare più di temi che sono redditizi dal punto di vista del consenso piuttosto che di temi che diciamo in qualche modo dividono o su cui è meno facile riuscire a fare comunicazione però questa è una dinamica direi globale, planetaria è una dinamica che ci accompagna da quando esiste la comunicazione politica io nel libro che tu gentilmente hai citato, hai fatto vedere ai vostri telespettatori affronto prima in modo verticale e poi in modo orizzontale i diversi modelli di comunicazione sono partito da Berlusconi che è stato il soggetto che ha introdotto in Italia la comunicazione politica come paradigma e poi sono arrivato sostanzialmente a Renzi che è un altro soggetto che in quanto a uso della comunicazione e del marketing non ha scherzato perché insomma è stato un soggetto fortemente incline all'uso di questi registi per poi arrivare a Salvini e Di Maio quindi dobbiamo fare un'operazione per così dire diacronica, temporale quindi ricostruire le vicende degli ultimi vent'anni quantomeno per capire il valore della comunicazione in politica ma dobbiamo estendere lo sguardo anche oltreoceano perché questo è un processo che viene dagli Stati Uniti e devo dire a dispetto di quello che si pensa il primo non è stato Trump perché Obama ha cominciato a disintermediare e a sviluppare forme di comunicazione diretta utilizzando i social network, nello specifico Twitter La citazione che faceva di Renzi mi suggerisce una domanda questo puntare, investire molto sulla comunicazione non accorcia però anche un po' i tempi dei cicli politici proprio perché si tratta di una rappresentazione dopo poco la rappresentazione incomincia a stancare forse se ne cerca una nuova Renzi si è bruciato così in poco tempo già si parla di un Di Maio in crisi oppure per rimanere al Movimento 5 Stelle Di Battista che era atteso al suo rientro dal Sud America come un messia è stato adesso quasi già riposto nel cassetto Sì, questo è un rischio che si corre quando diciamola in modo filosofico quando la fenomenologia prevale a un primato netto schiacciante sulla ontologia quindi bisogna stare molto attenti a comunicare contenuti che sono fortemente radicati da un punto di vista identitario nel sentire comune e da questo punto di vista Salvini è riuscito con il tema dell'immigrazione ed è in parte riuscito anche il Movimento 5 Stelle portando avanti la logica delle misure economiche finalizzate al contrasto delle disuguaglianze sociali quando si arriva su temi che sono più consumabili dentro frazioni temporali più ristrette il rischio che tu dici è molto forte nel marketing noi diremmo che c'è il rischio che si esaurisca l'effetto wow che vuol dire effetto wow nel marketing? è qualcosa che riesce a suscitare un incendio virale una capacità di condivisione dei contenuti molto rapida ma che se non è supportata poi da contenuti solidi poi rischia di spegnersi molto presto ecco questo è un po' il rischio che corrono anche i politici che in questo momento sono al governo del paese grazie davvero a Francesco Giorgino per essere stato con noi questa sera grazie a voi grazie a voi che ci avete seguito da casa il nostro dulcis in fundo questa sera lo appaltiamo molto volentieri a Oxfam Italia che ci ricorda in occasione dell'ormai purtroppo ottavo anniversario della guerra in Siria come un bene che noi diamo per scontato l'acqua pulita invece sia una necessità vitale e lontana per molte persone ci ricorda anche che noi possiamo fare qualcosa se volete ci vediamo lunedì ciao